A Natale non possiamo fermare la solidarietà e già qualcuno è venuto con un cuore immenso regalandoci pelati e pasta, quindi volevo chiedervi qualcosa di specifico, come olio, come prodotti natalizi per portare l'atmosfera del Natale in tutte le case e in più giocattoli per i nostri fanciulli, per chi possano sperimentare la nostra generosità. Come fare? Mi potete contattare personalmente ed io verrò insieme con Don Antonino, qualche collaboratore della parrocchia, e ritireremo e poi doneremo tutto quello che voi e il vostro buon cuore ci avrà regalato. Sante feste a tutti!